Buongiorno, un telegiornale come quello di oggi non lo avrei mai voluto organizzare, pianificare e preparare bruttissime notizie. La prima notizia è quella che per tutto l'agro di Pozzilli è vietato da oggi, dalle prossime ore, qualunque tipo di coltivazione per il cadmio e l'arsenico ritrovato nei terreni. Il sindaco di Pozzilli ha firmato l'ordinanza, quindi non si può più coltivare il terreno nel comune di Pozzilli ed è una notizia parecchio catastrofica, perché sono terreni coltivati a olivo, agricoltura intensiva, mais, insomma c'è di tutto, non si può più coltivare. Ordinanza del sindaco.